Siamo con Riccardo Carboniani, giocatore del Vezano, ottore di una doppietta, partita equilibrata, primo tempo vostro, secondo tempo un po' meglio loro, però i tuoi due gol hanno fatto la differenza. Sì, secondo me siamo partiti molto bene, inizialmente loro ci avevano messo un po' in difficoltà su qualche palla lunga, poi non ci siamo adattati e secondo tempo siamo un po' calati, forse un vantaggio di 2-0, non lo so, però l'importante è comunque aver portato a casa la partita, assolutamente. Senti, da tutti i detti ai lavori dicono che Vezano e Baeso sono le due favorite, secondo te? Secondo me ci sono solo noi. Quindi secondo te il Vezano è la squadra favorita in assoluto? Vedendo come ci alleniamo, come preparare le partite direi di sì.